C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Ecco la formazione della squadra di casa. La scelta dell'allenatore è di caduta. Prova la botta, è un'occasione sprecata, è un vero peccato. Apre berri di testa, Hazard. Rapido, veloce e dotato di un dribbling davvero ubriacante, Hazard è una delle attrazioni di questo match. I compagni lo chiamano spesso in causa e lui si fa trovare sempre nel vivo dell'azione, mostrando doti davvero leader. Se lo beve, Nainggolan, portiere che blocca senza problemi. Belotti. Non ferma il gioco l'arbitro. Dato il vantaggio. C'è spazio in avanti. Insegne. Gol degli Azzurri. Palla perfetta nell'angolo, calcolato al millimetro. Impossibile da prendere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Occhio al suo movimento. Ottima chiusura difensiva. Mertens. Palla che esce di pochissimo, alta. Insigne. Si avvicina all'area. Fischio dell'arbitro. C'è grande agonismo, subito. C'è il rilancio a lungo. Intercettato il pallone di Bonucci. Punta l'area. Palla recuperata dagli avversari. Belotti. Direttore di gara concede il vantaggio. Sono della scelta giusta. C'è un buon anticipo. Mertens. C'è il fallo del giocatore azzurro, almeno secondo l'arbitro. Sarà calcio di punizione contro di noi. C'è spazio per andare. Contrasto riuscito. Palla che rotola via. Dembélé. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Palla in mezzo di Candreva. Brutto cross. Nessun problema per la difesa. Verratti. Provano gli azzurri. Insegne. Ha sprecato malamente questa occasione. Ha avuto troppa fretta di farne un altro. Buon recupero del pallone. Possono ripartire. Occhio alla ripartenza. Comoda uscita del portiere. Bravo a intercettare questo pallone. Non era facile. Guadagna metri verso l'area. Sventa qui la minaccia. Un fallo sciocco che concede una posizione davvero invitante. È arrivato il cartellino giallo dunque. Come voleva si dimostrare qui a Luigi. Murato dalla barriera. La deviazione. Calcio ad ancora. Immobile. Sarà pallo laterale. Rimessa dunque per gli azzurri. Insigne. Grande giocata. Immobile. Splendida la parata in tuffo per il portiere. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Manovra interrotta dagli avversari. Verratti. Baragna metri. Ha perso il pallone. Grande recupero. Attenzione. Cerca l'appoggio al compagno. Perfetto il lancio qui. Gran tiro. Colpito il pallone dal difensore. Candreva. Sarà rinvio dal fondo. È arrivato il cartellino giallo. Rivediamo questo pallo. Che dici? Non credo volesse far male all'avversario. Però c'erano gli estremi per la munizione. Occhio cerca l'area di rigore. Immobile. Ha evitato problemi mandando il pallone in corner. Bonucci. Chiellini. Ci sono metri a disposizione. Parte il cross. Nainggolan. Barzagli. De Rossi. Si andrà avanti a giocare per altri tre minuti. De Bruyne. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Punta l'area. Potrebbe crossare. Chance per loro su questo corner. Sono sotto di un gol. Devono approfittarne se vogliono recuperare. Respinge il pallone di pugno. È finito. Pronti per la ripresa con l'Italia avanti. Buona la lettura difensiva che interrompe l'azione in un momento interessante. Ecco il tiro. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Azione interromta. Hanno spezzato bene la trama qui. Occhio al suo movimento. Perde palla. Ottimo il pallone filtrante. Naik Golan. Si riprenderà dunque col calcio all'angolo. Vediamo come lo sfrutteranno. Potrebbe essere l'occasione giusta per trovare il pari. Ottimo intervento difensivo. C'è spazio in avanti. Insegne. Il portiere dice di no. Un errore incredibile. Ma non è possibile. Ma come si fa? Buon possesso palla. Cercando spazi. Immobile. Ed è gol. Rete. Il successo che sta maturando oggi garantirebbe almeno la salvezza matematica. Possono amministrare il vantaggio. Visto lo scatto. Mi stanno conducendo la partita. La difesa troppo morbida qui. E l'Italia l'ha punita con questo gol. L'ha messa dentro sfruttando al meglio l'ottimo cross dalla fascia. Praticamente un cioccolatino solo da scattare. Ha concluso in porta con determinazione e realizzato davvero un bel gol. Sì, la difesa non ha fatto in tempo a reagire. Suma dunque l'azione d'attacco. Si avvicina all'area. De Bruyne. Tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. E anch'io sarei molto arrabbiato. Abbastanza comprensibile. L'appoggio di testa al compagno. Palla vagante adesso. De Rossi. Insigne. Immobile. Arbitro che qui potrebbe tirar fuori il cartellino. C'è una munizione in arrivo per lui. Mi pare che incassi di buon grado il giallo, sa? Che l'arbitro ha ragione. Arrivano i fisici dal settore ospite. Ovviamente nei confronti della squadra di casa che sta in effetti guadagnando un po' di tempo. Stanno cercando di difendere il vantaggio con tutti i mezzi. Le partite di tempo... C'è arrivato il portiere, evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Pallone che finisce in angolo. Berratti. Respì. Può colpire da lì. La delusione sul volto per quella che poteva essere una buona occasione. A volte capita di sbagliare. Non deve abbattersi, secondo me. Lo ferma ma non controlla. Perdono il pallone. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Bonucci. Buono il tocco dentro. Ottima lettura. Recuperano il pallone. C'è il fallo del giocatore azzurro. Almeno secondo l'arbitro. Farà calcio di punizione contro di noi. Arbitro senza esitazioni. Mi ha mostrato il cartellino giallo. Sì, molto vicino al rosso. Siamo entrati negli ultimi 20 minuti della gara. Baragna metri. Può segnare e rimettere tutto in discussione. Palla sul fondo. Sarà calcio d'angolo. Va con i pugni il portiere. Attenzione al cross. Cross comodo fra le braccia del portiere. Parolo. Immobile. Cercano spazi. Provano gli azzurri. Attenzione. C'è fuori gioco. È tutto fermo. E se ne stava andando verso la porta. Linea alta. Concesso la profondità. E fuori gioco. Immobile. Supera la... C'è spazio davanti a sé. Immobile. E la palla rimbalza sul corpo del portiere. Finisce in rete. Davvero non fortunato qui. Ennesimo gol subito oggi. Il portiere non è riuscito a dare minimamente sicurezza alla difesa. Davvero incontenibili. Continuano a cercare il gol e a trovarlo. Balla vagante. Potrebbe crossare. C'è il movimento dei compagni. L'arbitro facendo di proseguire c'è qualche dubbio. Beh. Da rivedere. L'assaltata di Netto. Interrompono bene l'azione. Sarà rimessa laterale per l'Italia. Dabbattolo velocemente. Vogliono sfruttare al meglio questa rimessa. Immobile. Candreva. Occhio al suo movimento. Occhio al contropiede. Ecco il tiro. Ha sbagliato completamente la posizione. Corpo all'indietro. Palla. Mancherò cinque minuti alla fine della partita. Prova a cambiare gioco. Partita che finora non rispetta il pronostico della vigilia. C'è una sola squadra in campo. E' già Piazza. La carta alle due formazioni sembrano equivalenti. Questo risultato dovrebbe dar loro la matematica salvezza. Non credo che gli avversari possano riportarsi sotto nei minuti finali. Ferreira Carrasco. La ragna metri verso l'area. E' stato fermato dal difensore. Orisci. Manovra interrotta dagli avversari. Intercettato il pallone di Chiellini. Sicuro intervento del portiere. Tiro scagliato da troppo lontano per far male da lì. Arriva il fischio finale. Vittoria degli Azzurri. Una vittoria fantastica che consente di centrare la salvezza. Rimangono in questa serie anche per un altro anno. In molti li davano già per spacciati all'inizio stagione. Invece sono stati bravi a smentire tutti sul campo. Ha disputato una partita eccezionale. Una grande gara. Ha trascinato. Ha successo la sua squadra. Con una fantastica doppietta. Una prestazione di grande...